in questo canale ci occupiamo di escatologia scientifica e cose che riguardano la fine del mondo ma la chiamiamo scientifica perché leggiamo tutti questi eventi come collegati al ritorno di extraterrestri che ritornano sulla terra a causa del fatto che il pianeta famoso tanto nominato nibiru si avvicina e quindi noi riteniamo che l'apocalisse tutte le varie scritture parlano di questo argomento e sicuramente una fonte di informazioni è il profeta nostradamus che proprio parla esplicitamente che gli dèi si faranno vedere quindi noi nel nostro canale leggiamo le profezie decodificando il contenuto poi che queste profezie si avverano o non si avverano questo è tutto un altro paio di maniche che tocca a chi ascolta decidere l'atteggiamento che tenere di fonte alle profezie noi rispettiamo tutti i punti di vista quindi noi ci occupiamo di far presente di cosa dicono le profezie e sicuramente nelle profezie di nostradamus è ben evidente la presenta di una siccità e di cambiamenti climatici che noi riteniamo essere collegati al ritorno di questi extraterrestri che favorirebbero questi eventi per fare in modo che un'umanità attanagliata dalla fame compri il cibo da loro che lo producono negli impianti di desalinizzazione che noi segnaliamo visibili da google earth quindi c'è una una playlist vacche grasse e vacche magre in cui noi sviluppiamo questo tema con tutti i vari dati annessi e connessi e collegati con l'attualità questi eventi che riguardano il medio oriente in particolare tutte le zone tra il tigri e l'eufrate e il nilo quindi tra la siria e l'egitto che sarebbero lo sputerebbero questi impianti pronti a produrre cibo mentre in tutto il mondo c'è una grande siccità e questo sembrano secondo noi raccontare le profezie varie profezie sembrano tutti concordare in questo tipo di racconto e all'intorno di questi cambiamenti climatici però nostradamus ci segnala degli eventi di caldo esterno estremo quindi qui vediamo una centuria 48 gradi in francia e segnala che i pesci in grecia si si questo necroponte è un mare golfo eubeo si chiama è un mare molto chiuso e quindi è facile che in presenza di caldo l'acqua si surriscaldi quindi racconta che nel necroponte i pesci saranno semicotte e gli abitanti a incominciare lì verranno quindi convergeranno delle persone in questa zona dove ci sarà un caldo estremo quindi noi seguiamo questo sviluppo degli eventi dei cambiamenti climatici proprio per capire come gli eventi i potenziali eventi dell'apocalisse si sviluppano leggendo questi cambiamenti climatici come una sorta di orologio della fine dei tempi e quindi cerchiamo di capire cosa succede nel clima e qui vediamo altri eventi anche l'isola di scozzo il gelo invaderà quando terra mare aria gelo saranno perversi quindi vediamo cosa sta succedendo nel clima qui il bruno di collapso mondiale questi canali brasiliani che sono molto attenti a questa chiave di lettura di quello che sta succedendo segnala che la Siberia sta affrontando un caldo estremo quindi un calore record in effetti si parla invece di avere i 10 15 sotto zero abbiamo 1 2 gradi sopra zero qui vediamo per esempio Helsing che in questo momento che registriamo a 4 gradi e ora diciamo noi ci troviamo qui ci siamo trasferiti in alta quota perché pensiamo che il caldo è un problema veramente gli altri stati l'abbiamo risolto cambiando di emisfero spostandoci tra il Brasile e l'Italia ma in realtà quest'anno progettiamo di passare l'estate come abbiamo fatto l'anno scorso sopra i mille metri di quota dove il caldo è quasi assente e sopportabilissimo niente di che e quindi stando in questi posti abbiamo sperimentato di persona degli eventi estremi degli eventi che la stampa di Torino riporta 26 gradi a Torino e 20 gradi sulle piste da sci quindi le chiamo follie termiche e quindi vediamo da cose sono generate facciamo un breve riepilogo della questione tecnica il sole e la terra a causa della sua inclinazione ha delle zone che vengono molto riscaldate dal sole e zone che vengono riscaldate poco e queste due zone sono separate da una linea ideale che viene chiamata in meteorologia fronte polare quindi la terra è uno scambio a calore tra le zone dove ce n'è molto e le zone dove ce n'è poco quindi c'è un meccanismo di scambio termico e più è il calore che la terra trattiene a causa dell'effetto serra e più questo scambio termico aumenta generando nuovi fenomeni climatici dovuti al fatto che la terra deve scambiare una quantità di calore maggiore abbiamo visto che i sistemi di scambio sono le correnti marine quindi per quanto riguarda la nostra situazione di cui parleremo l'europa è la corrente del golfo che minaccia secondo alcuni teorici di fermarsi a causa dell'addolcimento delle acque derivanti dallo scioglimento di tutti i ghiacciai della groinlandia e poi noi abbiamo segnalato che il meccanismo tradizionale in cui questa questo fronte polare era diciamo una linea dritta non vale più si è deformato quindi ci sono dell'incursione di calore sia di gelo che viene verso sud che di calore che viene verso nord ma gli eventi attuali invece stanno dando un'altra spiegazione a questo fenomeno di anomalia termica nel nord europa stiamo vedendo in questo momento basta accendere il giornale delle tempeste estreme nel nord europa qui vediamo quindi sono e se si vanno a vedere le temperature dell'inghilterra si parla di 8 gradi sono delle dei g è un getto caldo quindi si potrebbe pensare che sono delle come si dice delle correnti più forti tradizionali ma un altro evento ci fa pensare che è un evento che si sviluppa anche e o forse soprattutto in alta quota qui vediamo che i una notizia che ci segnala meteo boc meteo buc un vento eccezionale fa in modo che è un volo di linee attraverso l'atlantico in meno di cinque ore quindi new york londra in quattro ore 46 minuti contro sei ore 15 quindi questo perché perché ci sono delle correnti a getto vediamo che qui è il nord europa e qui è l'america quindi a destra il nord europa questo vediamo il marocco quindi ci sono state delle corrente delle corrente a getto anomale che hanno fatti perché le corrente a getto ci sono sempre vengono sfruttate dagli aiti di linea per arrivare prima invece in questo caso e si vede che sono stati eccezionali e quindi sono questi venti che probabilmente arrivano fino a terra fino al vento a tratti superava anche i 400 chilometri ora e qui vediamo un sito che monitorizza tutte le posizioni di tutti gli aerei che ci sono in aria che conferma che c'è questa zona di fortissimi venti si parla gli aerei di linea viaggiano a 14 mila metri quindi che cosa abbiamo abbiamo una sorta di asciugacapelli che sprutta manda aria calda sull'europa e questo è un bel problemaccio per il braccio perché quello che si temeva cioè lo scelvi lo scioglimento del perma forse frost c'è la miscela di terreno ghiaccio acqua congelato che c'era nel nord in canada e in siberia si si sta verificando quindi queste sono le condizioni per avverarsi di quello che si temeva lo scioglimento del perma forse qui vediamo un articolo che si sotto si sofferma su queste cose quindi tra le drammatiche conseguenze del discredimento globale indispensabile collocare anche lo scioglimento del perma forse e perché perché lo scioglimento del perma forse libera dei gas serra co2 metano che vanno a incrementare in modo esponenziale il problema quindi sostanzialmente c'è una sorta di effetto avvalanga che poi si innesca un processo inarrestabile qui dice c'è uno studioso dell'università del canada che sottolinea la pericolosità e si sta sciogliendo con 70 anni di anticipo sulle previsioni sulle vecchie previsioni e quindi andiamo al soda che serve fare diciamo i catastrofisti serve perché in una logica di protezione civile si possono prendere delle contromisure vediamo il primo problema che si ha in presenza di caldo estremo è il collasso dei climatizzatori vediamo che questo è uno schema di come funziona un climatizzatore c'è l'interno della casa e c'è una sorta di sespentina in cui il gas è freddo e si cerchiamo di essere schematici e trasmette fresco all'interno questo diciamo il compressore collega con una unità esterna che è calda e deve scambiare caldo col con l'esterno ora queste unità esterne tradizionalmente sono progettate per affrontare temperature intorno ai 32 gradi che sono considerate le il clima estivo tipico invece con questa nuova situazione funzioneranno a 40 gradi questo è il primo dei problemi quindi man mano che questa temperatura sale il rendimento quindi la capacità di raffrescare diminuisce e quindi possono andare in collasso cioè raffrescare di meno fino al punto che poi la persona sono costrette ad aprire le finestre dell'edificio ma non è solo questo perché quando tutti accenderanno il condizionatore ci sono i rischi di blackout quindi per sapere qual è lo scenario basta semplicemente riprendere un articolo di luglio dell'anno scorso non parliamo di algerio di parliamo di torino una città del nord italia vediamo che blackout è in richiesta di intervento nella giornata di caldo record a torino ora si può parlare di caldo record il termomoto ieri 27 giugno ha superato i 40 gradi la temperatura più alta raggiunta negli ultimi 60 anni quindi interventi della questa è una questione di protezione civile quindi sono degli interventi preventivi che lo stato dovrebbe realizzare per creare dei luoghi rifugio che non sono soggetti a questo problema dei blackout e dei diciamo collasso dei climatizzatori qui vediamo proprio un passo di questo articolo in cui racconta che gli autobus sono andati in crisi problemi anche sui bus alcuni dei quali hanno raggiunto temperature vulcaniche il cardo torrido sta facendo lavorare peggio gli impianti di aria condizionata che viene inoltre dispersa all'aperto dalle porte eccetera eccetera quindi perché fare catastrofismo non bisogna chiamarlo catastrofismo bisogna fare chiamarlo protezione civile quindi se uno tiene la ruota di scorta in macchina perché perché un catastrofista che pensa continuamente che bucherà no siccome l'evento bucare una gomma può essere affrontato con facilità invece di diventare catastrofico di richiedere l'intervento di un carroattrezzi di poter bloccare per due tre ore si risolve in pochi minuti con la avendo una ruota di scorta quindi il catastrofismo può diventare utile se viene chiamato prevenzione e strategia di prevenzione dei rischi che è una cosa che è ritenuta più che normale